Musica Che ti vuoi attraversare? No Assolutamente fatto vita Diciamo notturna Quindi adesso vado a fare comunque il test E vediamo, speriamo Com'era la situazione a bordo del traghetto? Allora io sono stata fuori Sinceramente di mia spontanea volontà Cioè non ho voluto assolutamente Sui fonti esterni quindi Sì, sì assolutamente Purtroppo è appena successo che in ascensore Cioè eravamo in tre E la gente si è brutta per forza Cioè è brutta per forza entrare Ed eravamo, cioè a parte di più della capacità Ovviamente dell'ascensore Quindi una situazione di assembramento Sì sì, ma ci sono anche alterate queste persone Che ovviamente adesso abbiamo detto di non entrare A fare un bevador A posto Arrivederci A presto Grazie a tutti.